Un'altra cosa che è farita, no? A me è farita. Quanto costa un chile sale? Un euro? Una cosa che ho detto è sbagliato! Già non te lo volevo chiedere, giuro, non te lo volevo chiedere, poi me la sono rischiata. Quanto costa? De meno, d'amore, cala! Guardi, gli spettacoli così sono in salita, cazzo, è il K2. Io sono comico col K2. C'è il telefono, mi guardi quanto costa su internet. Ormai qualsiasi cosa succede, dice come va? C'ho un dolore, guarda un po'. Su Google, c'ho un dolore, e ti dice il dolore proprio che c'è. Costerà? Vabbè, te ripio, buono. No, un euro. De meno. De meno? Ecco, due. Gli alamma, dò schimaci, c'è un cazzo di spettacoli, favo spettacolo. Uno mi ha detto, ma la storia, la drammaturgia dò... Ma che cazzo qui si capisce il chersale? Se alziamo il discorso, è finita, se ne andiamo. Uno mi ha detto, ma lo spettacolo, la drammaturgia... Ma balla ora, con questo non sai chi l'esale, la drammaturgia dò lo spettacolo. Vabbè, sto pezzo non lo faccio più, vaffanculo. No, vabbè, ti è in chi l'esale. Devo fare un'altra cosa che voglio fare, che mi farite tanto. Io lo dico a tutti, sempre, a tanti. La comicità è una... Quanto costa? 49 centesimi. 49 centesimi. E non l'ha guardata vero questa? Stiamo riprendendo la serata, certi pezzi li tagliamo, questo lo taglio, quello è 98. Che cosa non l'ha guardata vero? Ma quegli bei comici che c'hanno quegli pubblici normali. 50 centesimi. 50 centesimi, un chile di sale, è poco. Un chile di sale è poco, perché ne che lo metti... L'affanculo. Ne metti quanto ne metti, come la droga, quanto ne metti le sale? Poi mentre lo metti c'è sempre uno a casa che fa... Fermate con questo sale! Io poi se giro... Una manciatella ce la metto, ma che cazzo... Noi uomini siamo pippe, 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 o sai in che? Nel riso. Io... Mettemmo 5 cucchiai per uno, no? Va a vedere quanto hai 5 cucchiai, forse... Cazzo, che sera la merda sta... Tu mi dici... Tu moglie, va metti i 4 cucchiai! Tu fai 4 cucchiai! 4 cucchiai! Se gira... Metti 6, esce fuori in cazzo di riso così! Ti aveva detto, devi stare fermo! Se gira... Grazie a tutti